Grazie. Siamo in numero ridotto come consiglieri perché oggi c'è un altro anniversario a Mandello che compie 90 anni, un altro vesillo è presente presso la sezione di Monza che fa un raduno sezionale, un altro vesillo è presso la sezione di Como che anche loro festeggiano con un raduno sezionale. Un ringraziamento alle istituzioni e alle forze dell'ordine che credo siano una presenza viva, importante e concreta su tutto il nostro territorio, locale, provinciale, nazionale e loro meritano il nostro affiancamento e la nostra collaborazione sempre e ovunque, come la merita il sindaco, come la meritano i nostri sindaci che a Treviso erano in 27 ad accompagnarci. Questo anche secondo me non è una presenza di circostanza ma una presenza per dire grazie agli alpini, grazie alla gente che lavora per la gente, grazie alla gente che lavora per la semplicità, per rendere questo paese ancora più bello, ancora più libero. Il sentiero è difficoltoso ma noi dobbiamo andare avanti, carissimi alpini dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti, andare avanti senza paura anche se la burocrazia, scusate, qualche volta ci mette il bastone tra le ruote. Abbiamo ancora un paese da ricostruire, l'Abruzzo, la provincia di Macerata dove siamo là e c'è la gente in strada. E tutti ci dicono a livello nazionale è tutto a posto, tutto a posto niente. Qua ci dobbiamo rimboccare le maniche, qua dobbiamo mettere il nostro cuore, il nostro essere alpini. È possibile che per costruire ad un allevatore una stalla impieghiamo per presentare alla burocrazia nazionale 5 mesi e non siamo ancora partiti e abbiamo i soldi per finire la stalla e per fare di più. Questa è la nostra situazione e è su questo che noi dobbiamo dire siamo ancora presenti a livello territoriale, provinciale, nazionale. Perché gli alpini lavorano con il cuore e il ringraziamento più bello è stato quello dei bimbi che con il loro cuore, sincero, ci hanno detto grazie e ci hanno applaudito. Perché è lì che noi dobbiamo andare a dire il nostro grazie alla gente, non alle istituzioni che sono presenti per circostanza e perché devono solo fare il loro interesse. Scusate, ma in questo momento in cui la sezione di Lecco e gli alpini di tutta la sezione sono coinvolti sono veramente arrabbiato. Un grazie, un grazie, lo devo dire a tutti voi perché ci accogliete sempre con le braccia aperte, ci dite sempre andiamo avanti e andiamo avanti. Andiamo avanti in memoria di chi è andato avanti, che ha posato lo zaino a terra nel paradiso di cantore, ci guarda e ci sorride e ci protegge. Questo è l'intento nostro e di tutta l'associazione nazionale intera. Un ringraziamento, mi stavo dimenticando, al gruppo Aprica, salutatemi il vostro presidente della Valtellinese, per te è un gran presidente. Salutatemi un cuore e anche loro saranno con noi nella costruzione di questa stalla. E io lo dico sinceramente, lo dico con il cuore, dobbiamo andare avanti per rimettere il servizio di leva. Non sono soldi sprecati, perché sono soldi messi a disposizione per rieducare il nostro futuro al rispetto della persona e al rispetto dell'ambiente. Noi ne siamo sempre più convinti che questo sia necessario e che questo debba essere messo in atto. E l'ottantesimo di oggi, il novantesimo di Vandello, l'ottantesimo del gruppo di Cermusco, è per dire grazie e per riconfermare tutti questi valori che i nostri veci hanno lasciato sui campi di battaglia e ci guardano dal paradiso di cantore. Avanti così, viva l'Italia e viva gli alpini!